Per dare una mano, un sostegno all'assismo, al bene, all'assismo, alla tassia, a tutte quelle malattie che avete in testa voi anche. Mi piace un sacco. Mi sembra di sognare. Con la mia sedia a rotelle sono arrivata qui. Questa è un'esperienza che penso che aiuterebbe tantissime persone di noi malati. Abbiamo anche la neve il 9 di luglio. Perché qui impari a lottare con la malattia. Capire dagli altri di superare i propri limiti. A non abituarti all'adattamento alla vita perché la malattia se no si impadronisce di noi malati. Una rete di patologie, le nostre, che sono cugine, qua su, in questo scenario bellissimo. Dopo si va in gita, una bella cresta che parte dal passo falzario e raggiungiamo gli altri al rifugio Scoiattoli per il pranzo tutti insieme. Compleanno, un bello auguro. Piace? Guarda, anch'io vi voglio bene. E in questo modo possiamo crescere nell'autostima e nella conoscenza di noi stessi. Una bella sfida, provo io v'indicero. D'acquisto Buon appetit! Grazie a tutti.